Musica Prochielli si contro Real Cadaveri, 1-0 Real Cadaveri NIGLIO! NIGLIO 1-0 per voi, state giocando bene, partita tutta sommata equilibrata, cosa si deve fare in questo secondo tempo? A differenza della scorsa, siamo minimo organizzati A livello tecnico è quello che è per noi, però ce la stiamo cavando, quindi continuiamo così Va benissimo, grazie in bocca al lupo Andiamo da qualcuno Rosillo! Vieni, come è il cognome? Durso Durso, 1-0 per gli avversari, partita però tutta sommata equilibrata, cosa si deve fare nel secondo tempo? Dobbiamo giocare, non stiamo giocando Va benissimo, grazie in bocca al lupo Ci vediamo dopo per Real Cadaveri contro Rosillese Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita che ha visto affrontarsi Real Cadaveri contro Rosillese Rosillese che dice 4-2 grazie a una tripletta di schiaccareta Mi direte su in testa l'autore del gol del momentaneo 1-0 che ha chiuso il primo tempo per Real Cadaveri? Testa primo tempo come ho detto prima, anzi chiuso 1-0 Non abbiamo giocato bene In secondo tempo ci siamo entrati Ci serve un buon attaccante Ancora non l'abbiamo trovato Sì, purtroppo girate molto palla fino a tre quarti Poi non c'è chi mette il pallone dentro Senti, a chi vuoi dedicare con le prestazioni? Alla mia ragazza Va bene, grazie a me Ciao Passiamo a te Il gol tripletta Il gol del 4-2 che ha chiuso definitivamente il match Anche se è prima, però potrei segnare è stato bravo il portiere avversario in uscita Cosa pensi di questa roccellenza? Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Eravamo fermi Ma mica tra la mattina Per cancellare Secondo me possiamo anche Sì Sì Giocando benissimo Sì Ti vuoi dedicare il tripletto a questo Sì Grazie a tutti Ciao Ciao ragazzi